Un programma presentato da Metalfly, componenti in ferro per il mobile Soluzioni software e servizi cloud per aziende e studi professionali Metasistemi, il vostro partner sistemi di zona Fano Computer, da più di 20 anni al vostro servizio Via Fraghetto 8, Fano CSI Fano, da oltre 80 anni è lo sport a Fano e provincia Lo sport non si improvvisa Francesco Gomme e Servizi, qualità ed esperienza al tuo servizio Via Giovanni Agnelli 6, uscita Superstrada Lucrezia Agenzia Generale Unipolsai, Aniballi Associati Sede di Fano, in via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio Sede di Pesaro, in via Mameli 72, centro direzionale Benelli Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo e le settimanali di Fano TV Puntata numero 53, anche la terza di questa terza stagione Apriamo occupandoci di calcio con un personaggio che il calcio lo ha vissuto ai più alti livelli E anche alle più diverse latitudini nel doppio ruolo Prima di giocatore, poi di allenatore È con noi Lamberto Zauli, buonasera e benvenuto Grazie Andrea, grazie dell'invito e buonasera a tutti Lamberto Zauli, dicevamo prima giocatore, poi allenatore Ma parliamo inizialmente della dimensione di allenatore In questo momento osserva chi ha invece una panchina ce l'ha Come è il caso del suo collega Stellone Perché parliamo di Serie C, è il campionato che conosci da allenatore più profondamente La Vispesaro reduce tra l'altro dal pareggio di Chiavari E si sta facendo onore in questa prima parte della stagione In particolare contro una squadra che punta in alto come l'Entella Non solo ha meritato largamente il pareggio ma ha anche sfiorato la vittoria Hai seguito dal vivo la Vispesaro in più di un'occasione Che impressione ne hai tratto? Ma intanto è stata fatta una cosa molto buona Cioè quella di confermare un allenatore che l'anno scorso era subentrato E che quest'anno ha avuto la possibilità di cominciare dall'inizio E se ne sono visti subito i frutti Perché ha dato continuità alla salvezza Se vogliamo dire anche un po' miracolosa dell'anno scorso Però quest'anno sono partiti veramente bene Ne parlavamo prima Hanno preso ragazzi giovani con molta fame La sua personalità di Stellone Con la sua esperienza Perché non ci dimentichiamo che Stiamo parlando di un allenatore che ha fatto anche Le categorie superiori Stanno mettendo Grande qualità, grande aggressività dentro il campo E tutte le partite a prescindere se vincono o perdono La Vispesaro esce dal campo Con la possibilità di fare risultato E l'ha dimostrato anche nell'ultima partita Perché andare a fare risultato Possiamo vedere le immagini nel frattempo Andare a fare risultato comunque a Chiavari Contro un'Entella Che comunque giocherà per stare tra le prime E uscire con un bel punto È stato un grande risultato Che dà sicuramente un'autostima importante Conta la squadra Contano però anche i singoli La Vispesaro è un giocatore di Paola Che come vedremo sui calci piazzati Resta un pericolo pubblico Sì, sono andato a vederlo È un giocatore che a centrocampo ha personalità E ha un piede Che comunque difficilmente si vede in Serie A E in Serie C Sicuramente Oltre alle palle inattive Che è una sua grande specialità Ma allunga il gioco E manda le punte in profondità Con grande precisione Quindi sicuramente è un giocatore Molto molto importante per la categoria E la Vispesaro se lo sta godendo al massimo Qual è la dimensione attuale di questa Serie C In questo girone e anche negli altri Perché poi c'è Serie C e Serie C Tu mi insegni Sì, come in tutte le categorie C'è Serie A e Serie A C'è Serie C e Serie C Ci sono tante piazze C'è il piccolo paese Che riesce ad arrivare in questa categoria O c'è la grande tradizione Di squadre importantissime Però il campo è sempre lo stesso E quindi bisogna dimostrare Sul campo che si è più forti Quindi ci sono poi i tre gironi Che secondo me Nella mia esperienza Avendoli vissuti un po' tutte e tre Hanno la loro differenza Perché chiaramente Come si vive il calcio al sud O è anche in tante piazze del centro Non è come in tante piazze del nord E quindi questo penso che faccia la differenza In trovare delle difficoltà dentro il campo Però sono tre campionati bellissimi Soprattutto quest'anno Io vedo che in tutte e tre i gironi Parliamo questo della Vispesaro Che ci riguarda un po' più da vicino Ma ci sono squadre importantissime Blasonate Si va in dei stati veri Quindi siamo ancora un po' all'inizio Quindi è difficile dare giudizi adesso Perché otto, nove, dieci partite Sono veramente poche Però sarà un campionato Bellissimo da seguire Per noi che siamo amanti del calcio È fatto riferimento a realtà profondamente diverse A piazze che non possono essere messe a confronto Soprattutto al nord, dicevi Ci sono piazze che portano allo stadio Non più di 150-200 persone Al sud tutt'altri numeri Ora, la scelta di un allenatore Di un giocatore nel corso del mercato Dipende dall'indole Oppure ci sono dei parametri oggettivi Sulla base dei quali fondare poi il proprio orientamento Andare in una squadra piuttosto che in un'altra Come hai detto te È indole di quello che dico Che cosa si cerca Perché ci sono giocatori dove si dice Là si gioca in maniera tranquilla Preferisco andare a giocare là E chi vive nell'adrenalina Di doversi giocare la propria carriera Mettendosi in gioco domenica dopo domenica Sapendo di essere giudicato da tanti E dipende da come si è fatti È chiaro che se tu chiedi a me Preferisco sempre giocare davanti a tantissima gente Che però Ci sono oneri Oneri Perché È difficile Si è molto criticati Però Il calcio è fatto di ternellino È fatto di pubblico E quindi Il bello di questa Serie C Che vediamo piccolissime realtà A realtà dove Io l'anno scorso Prima di campionato a Cortone Siamo andati a Catania Davanti a 22.000 Forse non li troviamo in B Li troviamo in qualche Serie A Questa è la Serie C nostra Una Serie C Che ha aperto le porte Ormai da anni Alle squadre Under 23 La Juventus In questo senso Ha percorso questa strada Praticamente dall'inizio Ultimamente si sono aggiunte Prima l'Atalanta E poi il Milan Nel caso dell'Atalanta e del Milan È ancora presto Per tirare le conclusioni Nel caso della Juventus Queste conclusioni Si possono disegnare Al di là del bilancio Che ne ha risentito Molto positivamente Perché certi giocatori Che hai contribuito A far crescere Perché hai guidato La Juventus Under 23 Hanno permesso appunto Alla società Di fare un certo tipo Di mercato E quindi di valorizzare L'esplosione tecnica Di certi giocatori Ma come valuti In generale Questa esperienza È per te Un'opportunità O come molti altri Sostengono Beh delle squadre Under 23 Si dovrebbe fare a meno Bisognerebbe lasciare spazio Alle realtà Delle singole città C'è sempre questo dibattito Che viene E chiaramente Se vogliamo stare al passo In Spagna Che fanno il calcio migliore Da sempre Soprattutto in questi anni Ci sono da vent'anni Io quando sono stato lì Ci hanno fatto studiare la storia Addirittura la Juve Venne a parlare Morata Raccontando che il suo percorso Viene proprio dall'Under 23 Dalla Spagna Quindi loro hanno proprio Gli danno un valore Molto importante Io ero lì Quando c'era Agneli Con Federico Cherubini Hanno voluto portare A tutti i costi Quest'Under 23 Alla Juventus E quindi è la squadra Che è la società Che ci ha creduto Più fortemente E con da più tempo Però stiamo vedendo Anche i risultati Perché si fanno Investimenti importanti È vero Perché i ragazzi Non nascono da nulla Ci sono investimenti Importanti Già la base Però dopo c'è tutto Un percorso E la grande differenza È che questi ragazzi Che io ho toccato con mano Loro toccano con mano La prima squadra Capiscono che ci possono arrivare E quindi Il loro impegno La loro dedizione Il loro sogno Continua Ma Il loro sogno Di arrivare a grandi livelli È tangibile E quindi È una realtà Secondo me Molto importante Per questo Poi è chiaro Che se si parla Di piazze come Avellino Si passa Si parla Parlo di Avellino Perché è l'ultimo avversario Che c'è stata E comunque hanno fatto Un po' di contestazione Ma Sono cambiate tante cose Nella vita Nel calcio Questa è una nuova realtà Che stiamo portando in Italia Io penso che Per il movimento Della Lega Pro È sicuramente Una cosa Molto favorevole Nella Juventus Under 23 Ora Nesgen Ma prima ancora Nella primavera Hai avuto per le mani Una serie di giocatori Che ora sono conosciuti Dai più Miretti Piuttosto che Dragusin Piuttosto che De Winter E ancora Barrenecea Ilin Junior Lo stesso Sulè Come hai vissuto Questa esperienza E quale soddisfazione Prova un allenatore Nel plasmare Questi giocatori Beh intanto È molto gratificante Nel senso Io ho fatto tre anni lì Un anno di primavera E due di Under 23 Quindi puoi capire benissimo Che tu prendi ragazzi Che hanno quasi 16-17 anni Li porti fino a 20-21 E poi Cominciano a giocare I più bravi In prima squadra Ma anche altri Dragusin Nel Tottenham E De Winter Gioca nel Genoa E tanti altri ragazzi Che giocano anche In Serie B Quindi è stato molto Gratificante Ancora oggi Avere rapporto Con Sule che va a Roma Ed è stato bello Perché comunque Alleni la Juventus Quindi quel marchio Che sul petto pesa Te lo fanno pesare Quando sei lì Si crea un rapporto Meraviglioso E i ragazzi E i ragazzi erano bravi Molto bravi E quindi Erano molto giovani Quando li allenavo io Però è chiaro che Società Investe soldi Su ragazzi molto bravi E adesso che sei Un po' più lontano di qua Non ci rimane Che fare il tifo Per ragazzi Che comunque Hai conosciuto E hai anche voluto bene Perché poi è così Apriamo un altro capitolo Quello relativo Al calcio fanese Tu hai iniziato In pratica La tua carriera Da calciatore Qui a Fano Hai anche allenato L'Alma Sei trapiantato a Fano Quindi hai vissuto Comunque Da osservatore Ma molto da vicino Le vicissitudini Dell'ultimo periodo Qual è il tuo personale Dispiacere Nel vedere Una situazione In cui c'è Un'Alma Emigrata Ferminiano E ormai Disconosciuta In gran parte Dalla realtà cittadina È un Fano Calcio Comunque costretto A ricominciare Dalla terza categoria Vediamo subito Un'immagine Dell'Amberto Zauli D'epoca Dicevo qual è Il tuo personale Dispiacere E quelle sono Le tue considerazioni Sulla situazione Che sei venuto a creare Guarda L'altra volta Circa un mese e mezzo fa Sono andato a vedere Il nuovo Fano Che cresce Dentro lo stadio Era tanto che non ci andavo A camminare dentro il prato E io ero un ragazzo Così a vent'anni Era la mia seconda esperienza Che la prima L'avevo fatta in C2 Alla Centese E questo era il passaggio In C1 A Fano E ti viene da pensare Quanta gente Si è passata su quel campo Vedi le tribune Vero vecchie Ma quanta gente Si è stata là dentro E quindi oggi Vedere che insomma Ci sia questo Lotta Per capire Chi è veramente Il Fano Per dargli una realtà Per dargli una realtà Importante Da fuori Assolutamente da fuori È un grosso dispiacere Quindi è chiaro che Anche quando giocavo fuori Io giocavo Oppure allenavo L'occhio al risultato del Fano Lo dai sempre Uno perché ci vivo Uno perché mi ha dato Praticamente la possibilità Di cominciare a fare il calciatore La situazione di adesso È quasi paradossale Io penso che sia un po' unica C'è questa società Che non riesce a giocare Nella propria città C'è una seconda città Che scalpita dietro La seconda società La seconda società Scusa Per prendere Per prendere posizioni E per dare Una credibilità Diciamo così Al Fano Calcio E sarà il tempo A dire quello che sarà È un peccato Perché è una città Che ama il calcio Lo ha sempre dimostrato Io proprio in quest'anno qui Mi ricordo partite Dove c'era veramente Tanta gente a vedere Mi ricordo la partita Col Perugia Dove lo stadio Stacolmo Quindi io ho vissuto Emozioni forti Anche su quel campo lì Ero all'inizio Quindi mi piacerebbe rivedere Non dico quei tempi Ma avvicinarsi E apriamo allora La pagina a Marcord Quel campionato di C1 Con il Fano dirottato al sud Non proprio nel suo habitat naturale Pagò Quella situazione Pagò anche magari Scelte di mercato Non proprio azzecate Riguardo soprattutto Ai giocatori Di maggior riferimento Un anno in cui Esplose però Dario Hubner Il paradosso fu Di retrocedere Nonostante si fosse Si avesse a disposizione Il capocannoniere Sì E poi Tanti di quei ragazzi Hanno giocato anche In categorie superiori Adesso è una parte sottoscritto Che poi ha fatto la sua carriera Ma c'era Medri Ecevoli La coppia centrale Che eravamo tutti Molto giovani Però dopo hanno fatto anche Categorie superiori In quegli anni lì Ne parlavamo un po' prima Il giorno in sud Era veramente complicato Cioè quando si andava fuori casa Per una squadra come la nostra Comunque giovane Comunque con Hubner Bardi davanti Che erano una coppia Anche importanti di Serie C Facemmo un po' fatica E quindi Lottammo fino all'ultima giornata Ma non riuscimmo Non riuscimmo a salvarci Quindi quello Con qualche risultato Diciamo prevedibile Per certi versi Sulla carta prevedibile Allora Era facile fare la schedina Qualche volta E allora Andiamo avanti Perché da Fano A Ravenna Con Guidolini in panchina E quel Francesco Guidolin Sulla panchina Delle squadre In cui militerai Successivamente Ci sarà Spesso Per non dire quasi sempre Hai citato un allenatore Del quale Cioè per me è stato fondamentale Mi ha fatto diventare Da bambino Che giocava a calcio E basta A diventare un professionista Che capiva Che quello Era diventato un lavoro Quindi per me È stato importantissimo L'ho avuto Sei anni Della mia carriera Quindi puoi immaginare Quanto possa essere importante L'ho ritrovato in Serie A L'ho ritrovato a Palermo A Bologna A Vicenza Come si spiega il fatto Che nonostante le qualità Che indiscutibilmente Ha dimostrato Francesco Guidolin Non abbia mai guidato Una grandissima squadra Non lo so Non lo so Non gli è stata data Probabilmente È stato So che è stato Un anno molto vicino Alla Juventus E poi non si fece È chiaro che Le toppe erano tre E lui fece Per me Ne parlavamo l'altro giorno Con degli amici Che avevamo giocato insieme Quegli anni E lui dovunque è andato È arrivato al massimo Col Bologna Arrivamo quasi In Europa League Quasi in Champions League Con l'Udinese Non ne parliamo Col Palermo Europa League subito Cioè ha fatto cose straordinarie Però non gli è stata data Quella possibilità Però stiamo parlando Di un allenatore Che ha fatto per tantissimi anni La Serie A Facendo grandissime cose Quindi forse il ramarico Ce l'ha Di non essere stato In una grande Da quella Ravenna Composto anche da altri Ex Granata In buon numero Però il passaggio Al Vicenza E al Vicenza È legato in particolare Un ricordo su tutti Che credo sia stampato Anche nella memoria Dei tifosi Dell'Annerossi Semifinale Di Coppa delle Coppe Aprile 98 Se non andiamo errati Allora vediamo Le immagini Di quel gol Con il quale Il Vicenza Batte il Chelsea Allenato da Dialli Con Vialli in campo E tanti altri Giocatori Naturalmente Di primissimo piano Eccolo qua Naturalmente immagini Che Ha una qualità Rivedibile Ma siamo nell'epoca Del VHS Lancio di Vivani Mi pare Sì Di capire Poi questa giocata Un po' anomala Questo tiro un po' strozzato Di sinistra Un po' di fortuna A destra e manca Però Bellissima esperienza Dai questa Ancora oggi La chiamano La partita della storia Per loro Quindi essere nel stato Protagonista E con Mist Quindi Ti puoi immaginare Una piccola realtà Come Vicenza Che stavamo a quei livelli lì Quindi Ancora oggi La ricordano Con molto Tra l'altro Con un piccolo ramarico Legato alla partita di ritorno Assolutamente sì Perché Vicenza fu sconfitto Per 3-1 Ci fu un gol annullato A Luiso Che aveva portato In vantaggio Vicenza Vincevamo 1-0 E annullato un gol A Stephen Bridge A Stephen Bridge Vincevamo subito 1-0 E poi Ci annullarono Il secondo gol Che ci avrebbe permesso Di andare sul 2-0 Per un fuorigioco Che oggi col VAR Saremmo stati Regolari Però annullato E poi a 7-8 minuti Alla fine Mark Hughes Fece il gol del 3-1 E ci eliminò Però Ancora oggi È una roba Che ricordiamo Ancora oggi Noi abbiamo Una piccola chat Dove ci ricordiamo Sempre questi momenti E fa sempre molto piacere Un campionato di Serie B Ha vinto anche a Vicenza Così come anche Nell'esperienza successiva Di Bologna Come cataloghi Bologna Vediamo Anche l'immagine Di Lamberto Zauri Con la maglia rosso-blu Come cataloghi Quelle esperienze Nella tua carriera Qui per me Ho giocato in una grande Perché tu Non sei grande Perché Cirando la qualificazione La Champions League Se non ricordo male L'ultima partita Andiamo a Brescia Dove noi siamo quarti E quindi Potevamo entrare in Champions E perdiamo A Brescia Con il Brescia di Baggio Che doveva vincere Assolutamente Per salvarsi Se non sarebbero retrocessi Per Demo 3-1 Ci scavalcarono Ci scavalcò il Mila Così E arriviamo in Europa League E quindi Siamo arrivati Veramente a un passo Dalla Champions League Con Con il Bologna E Lì giochi in una grande Cioè perché Ti rendi conto Che la città È una città grande E lì c'è la storia vera E quindi Quando lo respiri Te lo fanno respirare Sono passati I campionissimi E quindi Per me Aver giocato in una grande Altro snodo cruciale Palermo Con il presidente Zamparini Anche lì Soddisfazioni E tra l'altro E possiamo vedere Anche alcuni dei gol Che Zauli Ha realizzato In Serie A Perché è disponibile Una collezione Su Youtube Anche appunto Esecuzioni Che rimangono Nelle memorie Come un pallonetto Credo da fuori area Non so se contro il Napoli Contro il Napoli No beh Palermo Ho avuto la fortuna Di andarci nel momento Meraviglioso Perché Zamparini Comprò la società Fu uno dei primi acquisti E E poi ci fu la promozione Immediata Quindi si andò in Serie A Sempre con Guidolini In panchina Sempre con Guidolini Che subentrò A Silvio Baldini E si vinse Si vinse il campione Si andò in Serie A Dopo 30 anni Quindi Palermo è veramente Una metropoli Si muove Un'intera regione E fu Un'esperienza incredibile Quindi davanti A tantissima gente In Serie A Dopo tanti anni E ancora oggi Ti vogliono bene Quindi È stata un'esperienza bellissima Domanda da un milione di dollari Per finire Quella Serie A In rapporto alla Serie A Attuale Quei campioni Rispetto ai giocatori Che frequentano Il massimo campionato Oggi È difficile A me non piace fare Quello che Giocava a quei tempi Allora parla bene Di quei tempi E male di adesso Il calcio è cambiato Completamente Io dico Ho avuto la fortuna Di giocare veramente Con giocatori strepitosi Perché nei miei anni Quando si parla di Zidane E Ronaldo Ma ne posso veramente Citare tantissimi Rui Costa Kakà Cioè E quindi ho avuto la fortuna Di mettermi in gioco Con questi giocatori Quindi io Sono affezionato A quegli anni Chiaramente tutti i giocatori I migliori giocatori Il nostro mercato Li portava qua E quindi era un campionato Stupendo Se si pensa che c'erano Le famose sette sorelle Arrivava settimo alla Fiorentina Con Batistuta Rui Costa Edmundo Questi arrivavano settimi Nel nostro campionato Ci rendiamo conto Di che è un campionato Il calcio poi è cambiato E quindi Oggi È molto più studiato Al tavolino E prima c'era un po' più di Io Il giocatore ci metteva più Del personale Quindi si vedevano più Giocate personali Importanti Grazie Lamberto Zauli Per essere stato con noi Grazie a te come sempre Andrea Noi torniamo fra qualche istante E andiamo ora Idealmente per mare Occupandoci di vela Ma anche di canottaggio I due filoni Che percorre ormai Parallelmente da tempo Il club nautico Vivani Di cui ospitiamo Nuovamente Il presidente Pier Giorgio Bonazzelli Buonasera Bentornato Buonasera Andrea Buonasera telespettatori Siamo qui per tirare Il consuntivo Di una stagione Molto intensa Sia per quello che riguarda L'attività velica Sia per quello che riguarda Il fronte del canottaggio E in particolare Una declinazione Molto specifica Del canottaggio Ce ne siamo già Occupati in passato Ma è il caso Di tornare magari A puntualizzare Di che cosa Stiamo parlando effettivamente Sì È stata una stagione Vero È stata una stagione Molto intensa Abbiamo Iniziato A maggio Con La coppa Filippi Di beach sprint Che è appunto Quella parte Di canottaggio Che viene fatta in mare Ci sono due discipline Che vengono fatte in mare Che sono Il canottaggio endurance Quindi sul lungo percorso Quattro o sei chilometri Almeno di percorso E poi il beach sprint Vero è proprio Che è la specialità Deputata Al Lido di Fano Perché è un palcoscenico naturale Come già abbiamo avuto modo di dire Ed è la disciplina olimpica Di Los Angeles 2028 Per quello che riguarda Il canottaggio in mare Avete sfruttato questo palcoscenico naturale Anche nei giorni scorsi Per una iniziativa Dai contenuti Decisamente interessanti Sì Stiamo vedendo le immagini Ora Abbiamo Ospitato Il termine Di un evento Che è durato un anno Un progetto Europeo Con Con il patrocino Della comunità europea Erasmus Sport Che si chiamava Che si chiama Crossing E Questo evento Ha portato Atleti In giro per l'Europa E gli atleti partecipanti In giro per l'Europa Per condividere Quello che è Quelli che sono Le 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 basi fondanti Della comunità europea Stessa Quindi ci sono state Gare in Germania Ci sono state gare In Francia In Spagna Grecia E Ultima gara Quella di A conclusione Di tutto l'evento È stata il 3 Il 4 Il 5 di ottobre Con il patrocino Della comunità europea Del comune di Fano Qui a Fano Da noi Alla spiaggia del Lido Rappresentative miste E anche Di una fascia d'età Molto estese Sì Perché è uno degli obiettivi Del progetto Della comunità europea Era quello di coinvolgere Uomini Donne Giovani E meno giovani Nella partecipazione Alle gare Nel gareggiare Insieme O a staffetta Oppure proprio insieme Nel 4 Con timoniere Per Appunto Stimolare Quella che è La fratellanza La fratellanza Fra i popoli europei Quando si portano in città Persone di altri paesi L'evento sportivo Assume Un connotato Anche turistico Sono arrivati Questi Slovenia E Grecia E che impressione Hanno ricavato Di Fano L'impressione Che hanno ricavato Di Fano È stata Di bellezza Perché Li abbiamo coinvolti Sono stati coinvolti Dal team organizzativo Anche in una caccia Al tesoro Che aveva Come obiettivi Far conoscere Le varie parti Di Fano E questo Ha suscitato Molto interesse Per Praticamente Per la storia Che permea La nostra città E hanno visitato I vari angoli Della città Giocando A questa caccia Al tesoro Mi pare che ormai Il club nautico Vivani Abbia individuato Nel cadottaggio In mare Una strada Che intende Continuare a percorrere Sì Decisamente sì Per quello che riguarda Lo sport del canottaggio Che è uno dei due sport Che segue il nostro club Sicuramente sì Anche perché Dal 2021 Nel 2020 Ci siamo riavvicinati Al canottaggio 2021 Ci siamo riassociati Alla federazione italiana Canottaggio Il 2022 La federazione italiana Canottaggio Ha individuato Nel club nautico-fanese Il centro remiero territoriale Per lo sviluppo Del beach sprint E quindi Continuiamo a collaborare Con la federazione Proprio in questo ambito Anche perché Il Lido appunto Si presta benissimo Assolutamente sì Canottaggio sì Anche con Abbondanza di sforzi Ma La vela Che resta il primo amore E anche su questo fronte Gli impegni E le iniziative Non sono mancate No Assolutamente no Abbiamo Abbiamo iniziato Col canottaggio Dicevamo Il 4-5 di maggio Abbiamo iniziato Col canottaggio Poi In collaborazione Con tutti gli altri Circoli costieri Del Velici Circoli costieri Della provincia Di Pesaro Abbiamo ridato vita A un trofeo storico Di regate In giro In lungo In largo Per le spiagge Delle nostre province Riassumando Il trofeo 8 spiagge Quindi Cominciando Da Pesaro E scendere Fino giù A Senigallia Ogni domenica Si regattava In una Spiaggia diversa Per dar luogo A un Un trofeo Grande Che permettesse A più persone Possibile Di ritrovare L'amore per la vela L'amore per Gareggiare insieme Più in amicizia Che per competitività Un programma Che ha incluso Naturalmente Anche l'attività Di formazione In particolare Dei giovani Che si avvicinano A questa disciplina Assolutamente Sì L'altro fronte In cui siamo impegnati È quello Della Della diffusione Dello sport Della vela Del canottaggio In particolare Nello sport Della vela Abbiamo Quelli che una volta Erano i nostri Ragazzini Sono diventati Istruttori Stanno lavorando Per cercare Di portare Sempre più Ragazzi Giovani Bambini Allo sport Della vela E quest'anno Abbiamo avuto Dei risultati Molto lusinghieri Dal punto di vista Della scuola Abbiamo avuto Circa 150 Allievi Di questi 95 Erano compresi Tra i 7 E i 14 anni Che è il Il fulcro Diciamo Dell'attività Estiva Del club nautico Ne abbiamo già Dato conto Anche in partecipazioni Passate Ma vogliamo Riassumere Brevissimamente La storia Del club nautico Perché non è una storia Appunto Di scarso rilievo E su quanti soci Può contare Questo sodalizio Sì La storia comincia Parecchio tempo fa Ormai Perché Nasce nel 1905 Come reale club Metauro Sempre nella zona Del Lido Quello che era una volta Prima delle due Guerre mondiali L'hotel L'albergo Lido E lo stabilimento Balneare del Lido E il reale club Metauro Aveva la sede lì La seconda guerra mondiale Come tante cose Purtroppo Ha spazzato via Anche questa realtà Che però è stata rifondata Nel 1953 Come club nautico fanese Con l'attuale denominazione Abbiamo sempre avuto Come obiettivo Quello della diffusione Degli sport nautici Il reale club Metauro Negli anni Fino alle due guerre Si occupava appunto Di canottaggio e vela Abbiamo nella rifondazione Seguito soprattutto La vela Gli sport nautici e motoristici Per poi trasformarci in vela E dal 2020 Di nuovo canottaggio Che rientra Tra le specialità Che il club nautico Persegue E cerca di diffondere Sul territorio Club nautico Vivani Che ha vissuto settimane Di grandissima eccitazione Ma potremmo parlare Di mesi Perché una sua creatura È ascesa ai massimi Livelli della vela Lo ha fatto già da tempo Ma è stato consacrato Proprio in queste settimane Potete immaginare Di chi stiamo parlando Ma lasciamo che lui stesso Si accrediti con questo video La sensazione di quando volo È una sensazione fantastica Senti tutto fischiare Senti il vento in faccia Gli schizzi che vengono È una sensazione unica Mi chiamo Marco Radoni Faccio il timoniere Ho 19 anni E questa è la mia prima campagna Di Coppa America Con luna rossa Mi sento pronto Ad andare a Barcellona E a stare in mezzo ai gradi Lo sport della vela Mi ha sempre appassionato Fin da piccolo Mi è sempre piaciuto La competizione Mi è sempre piaciuto stare male Ho vinto tre campionati mondiali E nel domenico Ho vinto il premio Rolex World Zero of the Year E poi sono andato avanti Nella classe olimpica Nel 470 Ho vinto il campionato mondiale D'Europeo Under 24 Allora Marco Qual è la sensazione Di essere campioni Del mondo di Optimist? Ah, quanti anni hai? Ho 13 anni Vengo da Roma E c'è un traguardo bellissimo Soprattutto è stato difficile Riuscire già dal primo giorno A pensare che sarei potuto Essere diventato Il campione del mondo Adesso con la Coppa È un po' diverso Perché siamo una squadra Siamo una grande squadra Le barche sono A livelli tecnologici Altissimi Ogni volta In zambolare È una responsabilità grande Perché sai Che con piccoli errori Può fare grandi danni Però la paura Nel mare Così no È solo tanto rispetto E questo era Marco Gradoni Vincitore con Luna Rossa Della Youth America's Cup E un grande futuro Nella Coppa America Dei grandi Sempre con Luna Rosso O almeno ce l'auguriamo Visto che qualche voce Lo dà come obiettivo Di altre barche Marco Gradoni È stato cresciuto Dal club nautico Vivani E in particolare Da Francesco Jimmy Zimelli Che accogliamo Buonasera e benvenuto Buonasera Andrea Buonasera a tutti i telespettatori E allora Marco Gradoni Proviamo a conoscerlo Non tanto come adesso Perché si è raccontato Attraverso L'esperienza di Luna Rossa Ma com'era A sette anni Quando Zimelli L'ha preso in custodia Beh Era uno spettacolo Nel senso che Allenare Atleti come Marco Insomma Per un allenatore Viene facile Perché Apprendono Molto velocemente Quello che gli viene Impartito Ma in particolare È un grosso aiuto Per tutta la squadra Perché la vela Essendo uno sport di relazione Dove si cresce Col confronto Con le altre barche Avere un campione Come lui Un talento Come lui Aiuta molto Tutta la squadra A crescere Ed è stato Molto molto Entusiasmante Perché appunto Oltre ai risultati Che ha portato al club Il nostro sodalizio Ci ha dato molto Anche dal punto di vista Del bagaglio Tecnico e culturale In ambito velico Insomma A volte Non è così semplice Riconoscere il talento Ma immagino Che nel caso di Gradoni Questo talento Si è emerso subito Confermo In genere La federazione Non vuole che si parli Troppo di talenti Perché si Vuole comunque Far uscire L'idea L'immagine Come è giusto Che sia Del lavoro Dell'ottenimento Del risultato Tramite il lavoro Quindi il talento La federazione Il termine talento Non lo ama Ma in questo caso È evidente Insomma Non si può Non riconoscere In Marco Un talento Che grazie comunque Al lavoro È riuscito a sviluppare Quello ci vuole sempre Quello ci vuole sempre Anche fra i talentuosi Però insomma Un talentuoso Che lavora Come ha lavorato Marco È capace di portare a casa Tre titoli mondiali Ai campionati Del mondo Optimist Che è la classe Più numerosa al mondo Ed è l'unico al mondo Ad aver vinto tre titoli mondiali Optimist Ricordiamo perché Gradoni è cresciuto Nel club nautico Vivani Qual è l'aggancio? L'aggancio è Il Lido Di Fano Sempre il Lido Che ritorna Nelle nostre Nelle nostre discussioni Perché Marco Con i suoi genitori Aveva l'ombrellone Di fianco al club E Da ragazzino Come tutti i ragazzini Dopo un po' Si stufava Stare sotto l'ombrellone Voleva fare qualcosa di diverso Il babbo gli ha proposto Prova a fare un corso di vela E da lì è nato tutto È arrivato al club nautico Ha iniziato a fare i corsi di vela E A quel tempo Francesco collaborava con il club E ci siamo Ritrovati Un talento cristallino Che ha iniziato fin da subito Prima con le regate più semplici Ovvero le regate in ambito regionale Che per la federazione italiana vela Si chiamano regate zonali E anche lì Ha sbaragliato la concorrenza E per poi crescere Il primo titolo italiano Che ha vinto Lo ha vinto come club nautico fanese Sotto la bandiera del club nautico fanese Ecco questa è la foto Che vede Della sua prima vittoria Era il titolo italiano Cadetti Quindi Diciamo I primi regatanti I primi ragazzini Che salgono in barca Iniziano a regatare A nove anni Abbiamo anche delle immagini Dei festeggiamenti Che il club nautico Vivani all'epoca Del primo titolo mondiale Ha organizzato Appunto Per celebrare Questa affermazione In campo internazionale Dicevamo di questo Talento evidente Dicevamo però anche Della grande applicazione Che gli ha consentito Di continuare a crescere Negli anni E ad un certo punto Anche di fare Una scelta piuttosto decisa Perché C'era la possibilità Che Gradoni diventasse Un atleta Di grande interesse olimpico Però c'è stata La proposta di Luna Rossa E quando chiama Luna Rossa È difficile dire no Ebbè sì In effetti La scelta non deve essere Stata facile per Marco Anche perché insomma Sono due obiettivi Che per un velista Sono il massimo Che possa sognare E desiderare Nella sua carriera Al Bivio ha scelto Per Luna Rossa Io penso che alla fine Visto i risultati Abbia fatto bene E speriamo appunto Che con le prossime campagne Luna Rossa parla Di un mantenimento Del gruppo E anzi Un consolidamento Sembra sia stato Riconfermato Max Sirena E quindi con lui Tutto il gruppo Che c'è dietro E speriamo che con le prossime Coppe possa Insomma Non diciamo niente Però Migliorarsi ancora Certo un'evoluzione del genere Pure di fronte Ad un campioncino Nessuno la poteva immaginare Fino a questo punto Sinceramente no Sapevamo Chi era Marco Sapevamo Cosa rappresentava E quali erano Le sue potenzialità Però fino a questo punto Sinceramente no E anche l'anno scorso Quando ci è venuto a trovare A Ferragosto Alla solita festa di Ferragosto Che facciamo dopo la regata Era lì con noi Si stava allenando Già a Cagliari E parlava di Di Barcellona Ma non pensavamo Veramente così tanto Devo dire però Meritato Lo esibite come Esempio Come modello Per i giovani belisti Che coltivate Ma È difficile da dire Perché Non avendolo Sempre presente al club È difficile portarlo Come esempio Diciamo che È un ragazzo Che ha iniziato A fare vela Perché Voleva Voleva fare qualcosa Di diverso Che stare sotto L'ombrellone E quindi Già questo Un po' Rappresenta L'obiettivo Di tutti i ragazzi Che si avvicinano Alla nostra scuola vela Però Dire che poi Si diventerà Come Marco Gradoni È difficile Perché Talenti così Ne nascono Uno ogni 30 anni 40 anni È una pepita È una pepita Ora anche le immagini Del trionfo Nella Youth America's Cup La competizione Riservata appunto Agli under Dicevamo Della prospettiva olimpica Ora avendo Gradoni 20 anni Fa in tempo Magari a vincere L'America's Cup Però a rimettersi in pista Anche per i giochi olimpici Del futuro Il suo partner Tita Ha dimostrato Che si possono fare Entrambe le cose Volendo Certo Sì sì La vela è uno sport longevo Va detto Insomma ci sono esempi Di campioni Che hanno continuato A vincere Olimpiadi Anche campionati del mondo Anche Oltre gli ANTA Quindi il tempo Marco ce l'ha Ce l'ha Per fare l'una E l'altra cosa Poi insomma Chi vivrà vedrà Comunque il tempo Ce l'ha E tecnicamente Anche Non gli manca niente Se non Appunto Il fatto Di decidere lui Che cosa vorrà fare Nel suo futuro velico Insomma Certo è che vedere Queste imbarcazioni Impegnate nell'America's Cup Fa un po' specie Perché si è abituati Alla vela tradizionale Invece questi Sono oggetti Un po' Di altra Estrazione Di altra natura Sì È una bella evoluzione Un progresso Importante Ed è molto Stiamo vivendo In questo periodo Proprio in questo periodo Un po' Le due scuole di pensiero C'è chi rimane Più sulla tradizione Desidererebbe vedere Una Cup America Mecciata Con barche classiche Quindi Che non volano Diciamo Chi invece Apprezza E Apprezza lo sviluppo Che c'è stato E si diverte Guardando queste regate Perché insomma Va detto Tutto sommato È vero Che non si avvicinano Come si avvicinavano Prima le barche classiche Per ovvi motivi Anche di sicurezza Comunque sia Si vedono Nel suo prodotto Nelle ultime regate Fra New Zealand E Ineos Si sono visti Insomma Qualcosa di Mecereschi Che ci riporta Alla vela classica Fra virgolette Si è visto Quindi Solo che è fatta 40 nodi Solo che è fatta 40 nodi E non ha 8 Chiudiamo Con un aneddoto Perché abbiamo Celebrato Doverosamente Il talento di Marco Gradone E anche la sua Grande dedizione al lavoro Però mi dicevate Che quando era bambino Insomma Qualche Capriccio Qualche comportamento Così Perfettamente ammissibile Per un bambino C'è stato Beh Era un campione Era un campione Fin da piccolo Quindi Era un po' Difficile da gestire Nel senso che Comunque Lui era sempre Un passo avanti A quello che gli si proponeva Lui faceva sempre La domanda Su qualcosa Che ancora Dovevamo spiegare O su qualcosa Che ancora Dovevamo fare E quindi C'era un po' Questa Erequietezza Questa esuberanza Questa esuberanza Da parte sua Che comunque Ci sta tutta E magari averne Insomma Grazie Francesco Gimmi Zimelli L'allenatore Che ha coltivato Questo talento enorme Di Marco Gradoni Grazie a Pier Giorgio Bonazzelli Grazie a voi Nel campionato di A2 Dopo l'esordio negativo Di Ravenna È arrivata anche La sconfitta Sul campo Della Campi Reali Cantù La formazione fanese Come vediamo Dalle immagini Non è riuscita A trovare il ritmo giusto Al cospetto Di un avversario Che ha fatto Sostanzialmente bene Sbagliando molto meno E rivelandosi Molto più efficace In tutti i fondamentali Una differenza sostanziale Con la squadra Di Mastrangelo Capace soltanto Nel terzo set Di alzare realmente La testa Fino a cancellare Un match point E portare a casa Il parziale Ma nel quarto set È stata Cantù A riprendere in mano La situazione Smart System Essence Hotels Chiamata ora A crescere Anche in fretta In vista di un impegno Estremamente probante Quello di domenica prossima In casa Contro la capolista Cuneo Intanto Un'occhiata Ai risultati Di questa terza Giornata Che hanno fotografato In particolare Oltre alla formazione Di Cuneo Su Porto Viro Anche quella di Brescia Su Reggio Emilia Sempre per 3 a 1 Fa spicco E il tie break Vittorioso Con cui Macerata Ha incasellato I primi punti Ai danni Di un'altra grande AC Castello Classifica Che vede appunto Una squadra Del blasone di Cuneo Al comando Approfittando anche Del fatto Che Ravenna Non ha giocato Per via dell'emergenza Meteo Ravenna che insegue Comprata di Portenone Porto Viro Smart System Essence Hotels Attualmente Al quart'ultimo posto Restiamo al pallavolo Scendendo però In Serie B Per salutare L'esordio In questo campionato Della Battistelli Compressori Bottega Di cui accogliamo L'allenatore Marco Romani Buonasera e benvenuto Grazie Buonasera E il direttore sportivo Andrea Signoretti Buonasera e benvenuto Anche a lui Buonasera Andrea Grazie Battistelli Compressori Bottega Che si presenta A questo campionato Di Serie B Da matricola Dopo l'entusiasmante Cammino dello scorso anno Che ha prodotto La promozione Naturalmente Un campionato nuovo Un campionato più competitivo C'è stato L'esordio San Mauro Pascoli Non è andata benissimo Sconfitta in 3-7 Poi l'occasione Del riscatto Rimandata Perché la partita Con bell'aria È stata rinviata A causa dell'emergenza meteo Si giocherà Domani sera Romani Come avete approcciato Questo campionato Credo consapevoli Delle difficoltà Che avreste trovato Ma anche convinti Di poter dire la vostra Senz'altro Abbiamo costruito Una squadra Con l'aiuto Grazie del DS In cui io credo Tantissimo Chiaramente La prima partita L'approccio Non è stato Dei migliori Ma sappiamo benissimo Che abbiamo pagato Lo scotto del salto di categoria Però Sono fiducioso Perché i ragazzi Lavorano bene in palestra I ragazzi Ci credono E io in primis Ci credo Le immagini Di questa partita Giocata contro La Rubicone Volley Avversario Che va classificato In una scala di valore Di questo campionato In che posto esattamente? Ma sicuramente Lotterà Per i vertici Perché ho visto Una squadra Ben amalgamata Con dei giocatori Di livello Sicuramente Sono diversi anni Che praticano Questo campionato E quindi Li ho visti Ben attrezzati Chiaramente Noi Non siamo mai Riusciti a entrare In partita Forse per merito Anche loro Ma anche molto De merito nostro Perché eravamo Molto contratti Una Battistelli Compressori Che esprime Quali caratteristiche? Ma soprattutto La nostra Determinazione È la difesa Io Sono un amante Della difesa E prediligo Principalmente La difesa E ritengo Che poi Della difesa Si possa sviluppare Il gioco Chiaramente Abbiamo anche Molte bocche da fuoco Molti ragazzi Veramente bravi Però Chiaramente Dobbiamo Ancora Ad amalgamarci E speriamo Domani sera Di poterci riscattare Quando Si sale di categoria Inevitabilmente Ritoccare in profondità Inevitabile Ritoccare in profondità L'organico È quello Che avete fatto Congedando Chiaramente Con dispiacere Chi ha contribuito A questo risultato Ma consapevoli Che occorresse Qualcosa di diverso Per il nuovo campionato Sì Decisamente Sì Andrea Nel senso Che noi abbiamo Ci siamo dovuti Arrangiare un po' Su alcune Questioni Alcuni addi dolorosi Come lì Adiotalevi Che è stato Per noi Un fanese doc Un elemento Importantissimo Non solo dentro il campo Ma anche nello spogliatoio Abbiamo dovuto Rinunciare a qualche Giocatore Che poi è passato Nello staff tecnico Come Francesco Giordano Omar Mezzolani Che è passato Come terzo allenatore Da fiancare Marco Insieme ad Alicia Bella Zecca Seconda allenatrice Per cui abbiamo Instaurato subito Un rapporto Con la Virtus Qua di Fano Infatti ringrazio Pubblicamente Matteo Brunetti Per la disponibilità Nel collaborare Procedendo al trasferimento Di alcuni giocatori Importanti Come Giro Lometti Come il palleggiatore Benocci Lo stesso Gianluca Baldelli Lo stesso Gianluca Baldelli Alexa Giurdevic Che faceva parte Sempre comunque Dell'orbita Virtus Esatto L'orbita Virtus Per cui abbiamo rinforzato Tutti i reparti Per cercare comunque Di alzare L'asticella Alzare il livello Perché sicuramente È un altro campionato L'abbiamo dimostrato Già in gara Nella prima partita Di campionato Affrontando una squadra Veramente di grandissimo Valore Come diceva il mister Romani Secondo noi Anche secondo me Il roster allestito Può fare bene La salvezza Nelle nostre corde Probabilmente abbiamo pagato Un po' lo scotto Dell'esordio Insomma Ecco quindi domani sera Come diceva il mister Abbiamo l'opportunità Di poter subito fare Benissimo Insomma Ecco tutto qua Contando anche sul fattore campo Assolutamente Perché in questi campionati In particolare Giocare in casa Non è la stessa cosa Che giocare fuori Senz'altro Poi da noi La palestra è abbastanza Piccola E quindi contenuta Chiaramente Per noi diventa un fortino Nel vero senso della parola Qual è la differenza Più sensibile Fra la serie C E la serie B A livello tecnico A livello fisico O da entrambi i profili Da entrambi i profili Sia a livello tecnico Che a livello fisico Anche se Devo dire Che la serie C Maschile Nelle marche È già Di altissimo livello Però In serie B Il salto È abbastanza notevole Insomma Fondamentale Dotarsi di un organico Tecnicamente all'altezza Però Anche in questi campionati Come in tutti i campionati Di tutti gli sport Centrale anche il gruppo Dovendo apportare Modifiche così consistenti C'è stato qualche problema Nel cementare il gruppo C'è qualche problema Oppure Si è creato subito L'ambiente giusto Allora partiamo da una base Sicuramente importantissima Il gruppo che si è creato L'anno scorso È stato un gruppo Direi eccezionale Ritengo che Uno dei migliori In tanti anni Prima da giocatore Poi da allenatore Insieme a Marco E poi da dirigente Non ricordo Un gruppo così Meraviglioso Che si è creato L'anno scorso Per cui Siamo partiti Proprio Da quella base lì Per confermare Il maggior numero Di ragazzi possibili E di tenere Chi ha smesso Anche nello staff Tecnic Come ho detto prima Proprio per Mantenere quel gruppo Abbiamo poi Preso dei giocatori Che si sono inseriti Sicuramente Molto bene Ecco Quindi quello Perché per noi Comunque La palla a volo Poi lo sai meglio di me Andrea È uno sport di fatto Di equilibri Quindi inserire Persone Prima che I giocatori È importante Per lo spogliatoio Per la dinamica Della stagione Nel lungo periodo Insomma Possiamo far passare Anche le immagini Della promozione In Serie B La partita decisiva Una promozione Che avete costruito Passo dopo passo Romani Perché non si è trattato Di un traguardo Improvvisato Ma alla Serie B In qualche modo Vi eravate già avvicinati Nelle annate precedenti Sì Hai detto bene Proprio così Abbiamo di anno in anno Siamo riusciti Ad inserire Degli elementi Che ci hanno fatto Fare quello Step Successivo L'anno scorso È stata una cavalcata Abbiamo avuto anche Un momento difficile Quando abbiamo perso La finale di Coppa Marche Dove la squadra Ne era risentito A livello psicologico Quindi abbiamo dovuto Ricostruire Ricompattarci Per poi arrivare a fare Una cavalcata Veramente eccezionale E anche l'ultima partita Oltretutto Vincere i playoff Al tiebreak E tanta roba Dovendo individuare Dovendo individuare Signoretti Una qualità Particolare Di quel gruppo Che ha permesso Poi di primeggiare Di cosa potremmo parlare Un affiattamento Fuori dal comune Una sintonia Chi Non giocava Sembrava Che era più protagonista Di chi era in campo E questo Solitamente Nelle grandi Annate Nelle promozioni Nelle vittorie Dei campionati Fa assolutamente La differenza Bottega È una delle Piccole Grandi culle Del volley Provinciale E regionale C'è una lunga storia Alle spalle Anche questo Aiuta Perché comunque Lavorare in un ambiente Che ha cultura Di pallavolo Rende forse Un po' più facile Il compito E rende anche Più semplice Trasmettere certi valori E appunto Sviluppare Una stagione Un campionato Ad alti livelli Certamente sì Noi nasciamo Nel 1970 71 Il primo campionato Quindi all'epoca Si giocava all'aperto Mi ricordo che Le prime maglie Che avevamo Erano delle maglie Di lana Col collo a V E si giocava Patrimonio comune All'epoca Poi chiaramente Negli anni 76 Con l'arrivo Del nostro Il nostro Carismatico Fondatore Dalla società Alberto Renda Da lì Abbiamo Piano piano Siamo cresciuti E mi ricordo Che nel 76 Dove io Giocavo Vincemmo La prima finale E giocavamo Nella palestra Di Montecchio Era vicino Alla EO Attuale E vincemmo E salimmo Di categoria E andiamo In serie D Quello è stato Il primo Traguardo Poi da lì in avanti Piano piano Siamo arrivati I giorni E in questi 50 Passa anni Comunque l'attività È sempre proseguita E la storia insegna Che comunque Il segreto È proprio Continuare Magari fra alti e bassi Ma esserci È stata questa La chiave di volta Anche per il bottega Senzata Perché negli anni Poi siamo riusciti A arrivare già Negli anni addietro In serie B Ma poi C'è stato il declino Siamo tornati In prima divisione Della serie D E abbiamo ricostruito Piano piano Come giustamente Detto tu Ci sono alti e bassi Del resto È una piccola realtà In un piccolo paese Sono queste Le piccole soddisfazioni Che poi rendono Il lavoro Che uno fa Rendono così importante Questo tipo di lavoro Torniamo al campionato Di serie B Torniamo all'attualità Questo impegno Contro Bellaria Cosa sapete Di questo avversario Un avversario Alla portata Sarà Così importante Ottenere questa prima vittoria Anche dal punto di vista psicologico Per sbloccarsi Per guardare Con più fiducia Al proseguio Sì Bellaria Ci risulta una squadra Sulla carta Sono il nostro stesso livello Ecco Conosciamo alcuni Componenti della squadra Tra cui Fanese Digo Caffaro Che è molto forte Come libero E diciamo che Per noi Sarebbe importante Comunque una vittoria Andare a punti Per stare più serene Perché poi Sabato C'è la difficilissima Trasferta a Osimo Che è un'altra pretendente Alla vittoria Del campionato Alla promozione Insomma Promozione finale Per cui ecco Domani sera Per noi È estremamente importante Ma penso Che abbiamo le carte In regola Per fare molto bene Soprattutto perché Giocando in casa Come diceva il Mist Insomma Il nostro fortino Spesso ci aiuta Per raggiungere L'obiettivo Della vittoria Insomma Facciamo la fotografia Di questo campionato Di questo girone In particolare Quali le squadre Quali le indiziate Per il salto Di categoria Quali le formazioni Contro le quali Invece si può In qualche modo Ragionare Diciamo che Forlì Perugia La stessa San Mauro Pasco Perugia è la seconda squadra Della Safety Esattamente Sono quelle squadre Che sull'Eosimo Ovviamente Sono quelle Più titolate Per Quelle più attrezzate Per la vittoria Del campionato Nel senso Che poi L'hanno anche Dichiarato Apertamente Insomma Quindi hanno fatto Dei roster Molto molto forti Con anche qualche Giocatore Che è sceso Dalla Serie A3 Per cui questo È importante Dirlo Per quanto riguarda Nel nostro cammino Anche se Vogliamo rendere Diciamo La vita dura Anche a queste squadre Soprattutto in casa Diciamo Ce la vedremo Proprio col Bellaria Con Riccione Con Sabini Quindi Falconara stesso Che abbiamo incontrato L'anno scorso Che ha vinto Comunque L'altra squadra Che è salita In Serie B Che ha vinto Meritatamente Diciamo Il campionato Per cui Queste sono un po' Le formazioni Che Diciamo Ci faranno Un po' Da contendere Insomma Ecco tutto qua È stato fatto riferimento Ad alcune piazze Particolarmente Prestigiose Che hanno fatto Anche la storia Del volley marchigiano E non solo Credo che sia gratificante Confrontarsi Con queste piazze Con queste squadre Che hanno anche Questo tipo di ambizioni Senz'altro Giocare al pallabadiali Senz'altro È un palazzetto Che Appena entri È stato Tra sudastro Esatto Quindi ci sono Delle realtà Dove noi ci confrontiamo Ed è un onore Giocare con queste squadre Quindi cerchiamo Di fare il meglio Per riuscire A ottimizzare Al massimo Questo campionato L'obiettivo Dobbiamo dirlo È la salvezza La permanenza In categoria Perché poi Anche in questo caso Un segreto Che è quello di Pulcinella L'importante è consolidarsi In una categoria Per poi Continuare a crescere Come avete fatto In questi anni E provare Appunto Ad ottenere Risultati sempre migliori Assolutamente L'obiettivo È la salvezza Questo è assolutamente Ed è come diciamo Vogliamo ricordare La formula del campionato? Sì Sono quattro retrocessioni Le prime due Del giro Vanno a fare i playoff Per salire Quindi le retrocessioni Sono tante E quindi Troppe Troppe Pure troppe Infatti Però Renderà sicuramente Il campionato Molto interessante Molto bello E agguerrito Soprattutto Naturalmente In questi contesti Si punta anche Alla crescita Dei giocatori Nell'arco della stagione Da questo punto di vista Quali margini avete E quali sono magari Quegli elementi Sui quali Si confida Di poter Lavorare Con più incisività Abbiamo sicuramente Un mix Di giovani E meno giovani Alcuni giovani Sono molto promettenti E stanno crescendo E questo chiaramente Per noi È molto importante Una realtà Quella della serie B Anche impegnativa Dal punto di vista Logistico Naturalmente Anche per dotarsi Di un organico Adeguato Occorre incrementare Il budget Da questo punto di vista Societariamente Come sta la polisportiva Bottega A basi sufficientemente Concrete Per affrontare Questo campionato E anche gli altri Che magari Auspicabilmente Seguiranno Sì Dobbiamo ringraziare Sicuramente Il nostro presidente Giancarlo Ricci Che ci ha messo A disposizione Tutta una serie Di sponsorizzazioni Oltre che Battistelli Il main sponsor Tutta un'altra serie Di sponsor E la società stessa Che con parsimonia Equilibrio Ci ha permesso Perché ovviamente Non dimentichiamo Che abbiamo anche Una serie C femminile Tutto un settore giovanile Che meritano Rispetto e attenzione Però la serie B Giustamente Come in prima squadra Ha bisogno anche Del suo budget Per poter comunque Garantire le trasferte In mezzi di trasporto Insomma Vitto E tutto quello Che serve poi A una squadra Per lavorare al meglio Attrezzatore Per preparatore atletico Quindi devo dire Che in questo La società Ci ha messo Mi ha messo A disposizione Comunque Ecco Non loro Però comunque Mezzi sufficienti Per poter essere Anche attrattivi Nei confronti Anche dei giocatori Per venire a giocare A bottega Insomma Quindi ringrazio pubblicamente Anche il presidente E noi ringraziamo Andrea Signoretti DS della Battistelli Compressori Bottega E l'allenatore Marco Romani Grazie come sempre Anche a voi Per averci seguito Vi aspettiamo La settimana prossima Grazie a tutti Wah